L'amministrazione non soltanto dialoga con il volontariato, ma io ho sempre affermato che senza la presenza del volontariato a Catania, laico e cattolico, attraverso il presidio leggero che abbiamo creato, attraverso la sinergia, il comune fa solo dal regista, si riesce a fare tanto lavoro a favore di coloro i quali sono al rischio di esclusione sociale, basta vedere quello che il presidio leggero dell'assessorato alle politiche sociali ha fatto in questi anni con l'assessore Benisi, questo non è vero, la protezione civile è uno di quegli elementi importanti che partecipa a questo rapporto, a questa sinergia che c'è. Campo Sant'Odoro, vedete io ci sono stato a Campo Sant'Odoro, non ho fatto fare le foto, non mi sono fatto la possibilità, io ho parlato con i ragazzi e noi abbiamo già pronto il banto, perché un'amministrazione pubblica non può affidare, stiamo facendo il banto dove ovviamente anche la presenza del volontariato è importante per l'affidamento di questa struttura a questi ragazzi. Grazie.